Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio presentarvi e recensirvi un programma per iPad ma anche per iPhone questo programma è AIM+, che probabilmente tutti conoscerete è un programma che racchiude molti social network ad esempio Skype, Twitter, Facebook, AOL e via dicendo appena apriamo il programma ci verrà chiesto quindi di inserire tutti i nostri dati e ci verrà fatto scegliere quale social network andremo ad aprire nel programma Allora, appena impostato tutto ci verrà questa schermata su iPad Allora sulla sinistra vedremo tutti i contatti che abbiamo io al momento non ho messo nulla, non l'ho ancora impostato vedremo tutti i contatti come si vede qui tutti i contatti e sulla destra la posta in arrivo Sulla destra dello schermo vedremo le conversazioni che abbiamo e che abbiamo fatto Con questo pulsante potremmo verificare lo stato possiamo mettere online, con l'iPad, suono qui, quindi anche la geolocalizzazione assente oppure invisibile o direttamente offline Con la seconda vedremo i vari account che abbiamo, possiamo attivarli e come disattivarli Come più a destra avremo le impostazioni, quindi possiamo mettere le impostazioni push quindi possiamo mettere di restare connessi anche se usciamo dal programma Adesso mi è cancellato tutto Possiamo restare connessi Possiamo decidere noi l'audio, gli avvisi, i badge del servizio push Il time out, quindi quando l'applicazione andrà a spegnersi totalmente Quindi quando ci disconnetteremo da tutti i social network che abbiamo inserito Quindi possiamo mettere da 10 minuti fino ad arrivare anche ai 7 giorni Ci verrà notificato con una scadenza, quindi ci verrà detto Il tuo programma si chiuderà, quindi verrai disconnesso da tutti i social network Possiamo fare anche l'autorisposta Possiamo fare la chat history, quindi abbiamo tutte le chat che abbiamo fatto Possiamo visualizzare lo sfondo, possiamo cambiare lo sfondo Possiamo mettere, non so, questa qui Anche se non mi piace molto, però vabbè Possiamo sceglierne una dall'album E, vedete, ci sono un sacco di personalizzazioni E c'è anche il riconoscimento vocale Possiamo visualizzare, connettersi all'avvio Quando accendiamo subito l'iPad, diciamo Possiamo connettersi direttamente, aprire il programma E come ultimo abbiamo il mondo Che sarebbe in pratica l'internet Che direttamente da cui possiamo visitare qualche sito Quello che vogliamo Per questa recensione è tutto Grazie a tutti Se volete iscrivetevi Guardate il mio canale Commentate Un po' di tutto, dai Va bene, vi ringrazio Per quest'oggi è tutto Quindi, grazie Alla prossima Ciao